Salve, sono Andrea Barnapa Parise, un pittore e dottore in filosofia e storia. Sono qui per presentarvi l'Arte Expo 2019 presso il complesso di San Domenico. Alla mostra partecipo anche io personalmente con una mia opera, una mostra che permette di valorizzare l'arte contemporanea all'interno del territorio calabrese. L'arte è fondamentale in quanto ci permette di avere un senso critico molto particolare in modo tale da poter analizzare non solo l'arte ma anche la vita che non è altro che un'analogia dell'arte. Un filosofo francese del Novecento ci spiegava che la vita non è un problema che troviamo di fronte a noi ma è un mistero in cui ci troviamo già dentro. Ecco perché l'arte come la vita non è un qualcosa contro cui ci scontriamo ma è un mistero ed è proprio questo che noi andiamo a cercare all'interno dei quadri. Una qualche sensazione, un simbolo che si lega a qualcos'altro e che espone le nostre emozioni e il nostro cuore al nostro esterno. Ed è proprio tenendo conto di tutto ciò che nasce l'Arte Expo con un occhio verso l'universale ed un occhio verso il particolare. Ovvero le risorse calabresi vanno valorizzate, sfruttate ed è proprio questa la missione dell'Arte Expo 2019. Bisogna sublimare ciò che di reale abbiamo all'interno dell'arte, sublimando anche le nostre anime. Perciò venite qui al complesso di San Domenico per ammirare queste bellezze. Grazie a tutti.